Ha risposto alle opposizioni questa mattina in Consiglio Comunale sull'inchiesta della Guardia di Finanza spiegando che il NIV aveva valutato positivamente il lavoro del dirigente dei lavori pubblici. Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha poi spiegato che il lavoro in città continuerà. Noi abbiamo già verificato per esempio che il NIV, il nucleo di valutazione del Comune, ha valutato nel 2020 e nel 2021 tutti i dirigenti in una certa maniera, anche il dirigente Tresi è stato valutato avendo una valutazione molto positiva per l'attività svolta all'interno dell'amministrazione e quindi il sindaco non poteva certamente intervenire per modificare quelle valutazioni. Aggiungo anche che quel NIV non era stato nominato dal sindaco Masci, è un organo di controllo terzo e che in questo caso era stato nominato dal sindaco Alessandrini perché io non ho modificato nulla del NIV quando mi sono insediato, quindi è il NIV che ha valutato le performance dei dirigenti e il sindaco non poteva intervenire, quindi le mie scuse sono delle scuse generali che riguardano il mio ruolo di sindaco ma per quanto riguarda le attività amministrative io non potevo intervenire e non sono intervenuto perché se fossi intervenuto avrei commesso un abuso d'ufficio. So anche che tutti i lavori potranno proseguire, questo credo che sia molto importante, tutti i lavori potranno proseguire. Io ho avuto un'interlocazione istituzionale da sindaco con la procura per chiedere se potevamo proseguire negli atti e la procura mi ha risposto in maniera assolutamente cordiale in un rapporto da istituzione a istituzione che non c'è nessun atto del comune che è sottoposto a un blocco e che quindi i lavori possono proseguire. Il primo cittadino ha detto che chi si candiderà con lui in un prossimo futuro dovrà sottoporsi al test antidroga. Ho chiesto anche ai miei assessori, ai miei consiglieri di maggioranza di fare questo test perché io voglio adesso, dopo aver scoperto che queste vicende sono molto più vicine a noi di quello che pensiamo voglio avere quindi la certezza che chi è vicino a me non abbia problemi di dipendenza e possa decidere liberamente sulle operazioni da fare nella città però il discorso è aperto perché secondo me questo è un tema che noi dobbiamo affrontare a livello nazionale in una maniera molto più alta. Intanto cominciamo noi a dare l'esempio.